Ciao ragazzi sono Cerofidi e oggi siamo qui con Questa roba qui Cioè How can Nel scorso episodio abbiamo fatto questa modalità E si è sbloccata quest'altra Missile Assault Va bene Vediamo che cos'è Tanto che sto caspita di cosa non carica Ok è caricato Io volevo provare a comprare questo Bui Bui No Non posso comprarlo Strano Eppure solo ci l'avevo Vabbè direi di prendere sto tizio qui E attaccare Ok E quindi non c'è nessuno Soltanto io Ok è apparto un tizio Lo senti sei appena apparto Torno qui Torno qui Bene c'è già un tizio cattivo Dai che lo uccidiamo E' morto Ho ucciso un tizio Mi sa che non sono statui però Tizi Gli ha ucciso un altro Mi sa che non sono statui Comunque Ci capisci qualcosa C'è stata un'esplosione di radiazioni Un tizio cattivo Morisciti Ok sono in due Non ne ha colpito nessuno Ok Visto che c'ero Ho fatto sta roba qui E adesso me ne vado Me ne vado ho detto Ok sono morto Boom Oh Ok Ho cambiato tizio Adesso c'è questo qui Che spara Molto Levati che qua sto lavorando Professionista E' morto E vai No è morto il mio amico C'è quello che stava con me Non quello cattivo Io mi sto surriscaldando Tipo qualcosa del genere Che è successo qualcosa Non sono riuscito a sconfiggere Meno vita di me Ok l'hanno messata Uh Non male Ti spavento Quello lì che è apparso all'improvviso Ok Però non rifarlo neanche più Dante Ti cade in testa Dante 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 Che fai Guardi Guarda anch'io Ok Ah ecco perché si chiama lancerazzi Perché c'è un lancerazzi Bello Bello eh Che cosa è successo? Sono andato dove ci sono i nemici? Che so Ok Ok Ah dobbiamo distruggere tipo la base nemica Boh Io mi riparo sempre Non si può mai sapere Ok C'è un tizio Perché? Perché non si sente Ok Oh sono troppissimi Sono esploso Su me stesso Sono a livello 2 Bello Mi sembra che mi sia aumentato un pochino la vita Magari adesso sono un po' più forte Boh C'è Johnson Arriva da te Johnson Resisti Mi sa che è morto Mi dispiace Era un bravo Tizio Anche se non lo conosco Mi dispiace bene Va bene adesso dire che Devo smettere di dire Cosa a casa Non c'è quello laggiù Nah Johnson Arrivo Andiamo Johnson Ce la faremo No mi stanno ammazzando Devo tornare indietro per curarmi Aspetta No non serve Sono già morto Eccomi Johnson Ritorno Vieni da Artemisius Andiamo da Johnson Non so che cosa spara Oh che è successo E' esplosso qualcosa Johnson sei tu? Non so No è D'Artemisio Oh mamma mia Che caspita è successo Di preciso Ok ci sono lentamente Prendendo la mano Magari fra qualche giorno Saprò giocarci Decentemente Silo a un cosa Non l'ho visto Wow Sei calmo Dov'è? Dov'è? Sono due Sono tre Sono morti Non so giocarci Sta roba io Boom Oh questo qui c'è davvero Un casino di vita Che è? Mi sa che parti su un altro razzo No ok Ma Silent Non l'ho visto Dico qualcosa No non l'ho visto Ah non l'ho visto Johnson 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 uccidiamolo Vai Johnson Ce la possiamo fare Però aspetta solo Un altro Johnson Steel banana Capita Benissimo Ci sono Johnson Chi è che dobbiamo uccidere? Ok Qualtizio Ti sconsiglio di contare su di me Perché non so giocare Johnson Brava L'ho ucciso da solo D'artemis Dove è finito Johnson? Eccolo là Stilo controlle Più 3D esperienza Ok D'artemis Restiamo noi due qui A guardare il cannone Che spara Molto bello Ma chi spari? Ah ok Non è giusto per sapere Ho ammazzato un tizio Ho ammazzato un tizio Sì È la prima volta nella mia vita Che mi arriva un messaggio E ammazzo un tizio Ma veramente I messaggi mi sono già arrivati Molte altre volte Johnson Arrivo in giro soccorso Ci penso io A quel robo Che è scappato Mi dispiace Mi dispiace Johnson Si è sparito Caspita è finito Grimark Ti salto in testa Boom E però mi ha fatto fare un voletri Che caspita è accaduto Ma questa è la parola Devo prendere Non lo so Ok l'ho preso Adesso Tipo mi ridano vita Mi stanno ammazzando Ah no Mi sa che c'è qualcuno Che mi sta ammazzando Non è che quella roba è stata lì Ok Attacco anch'io la base Con i missili Mi sa che non funziona D'artemis No io non voglio D'artemis Voglio Johnson Siamo nelle fogne Dove stanno finito? Che schifo Perché i spiagni siano finiti? Perché proprio è uno schifo Ok Salto Dai No non ci riesco No E che schifo ancora Ok il mondo delle fogne è sto posto Johnson C'è Johnson Ciao Ti salto in testa anche te? No Magari si dai Guarda Magari ci riesco No Dopo allontare Oh oh iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Posso entrare qui dentro? Sì! No! Per pochissimo Johnson? Non c'è più Johnson! Eccolo Però la mamma poteva farla un pochino più grande Riguardo a uno spazio piccolissimo Ma che cosa ti continua a dire silence? Zitta! Ok Johnson Siamo tutti riuniti Siamo in quattro E tu stai curando Perché ci sono tutte esplosioni ogni tanto? Vai! No, non ci sono riuscito Devo salire in alto da un'altra parte Tizio! C'è un tizio! C'è un tizio! Appena esce Lo uccido! Non funziona Johnson aiutami te E' un tizio Come sono da solo? E grazie E mi curo di nuovo Oh, è arrivato il tizio! Ah, si qui lo tizio Ok, direi che possiamo fare l'ultima partita perché siamo già a dieci minuti Sbam Comunque ogni tanto farò qualche altro video di questo Che è successo? Che è successo? Abbiamo vinto? Perfetto Perfetto Abbiamo vinto Perfetto Pilota di livello 3? Vai Ok, adesso Ci sono anche fra quelli? Oh, che è quella roba? No, io non ci sono No, non ci sono Io dai Oppure non mi son visto Semplicemente Beh, abbiamo vinto casino di cose No, non so neanche perché Vabbè Direi che per oggi tutti noi ci vediamo al prossimo episodio Bli, dai, 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 dai